Abbiamo comprato un po' di fuochi da fare in famiglia. Che tipo di fuochi? Torte. Torte, sì. Ho detto come fare, di stare lontani, di accendere e allontanarsi. Botti e fuochi d'artificio sì, ma legali e soprattutto in sicurezza. Come ogni notte di San Silvestro, anche ad Arezzo, è tornata la corsa ai fuochi d'artificio. Gli aretini cercano sempre le cose più omologate, quelle più regolari che si possono realmente commercializzare e accendere con sicurezza. Questo fa immensamente piacere grazie anche alle forze dell'ordine che come tutti gli anni seguono le attività che commercializzano questi prodotti perché anche merito loro, se ad Arezzo è una delle città che oggi ancora, come oggi non è successo, cose gravi. Quali sono però i fuochi d'artificio? Che più piacciono? Normalmente sono le fontane, quelle sono le cose più sicure perché hanno la sua accensione, una volta accese fanno tutto lo spettacolo e penso che possa realizzare quello che desiderano. Ad Arezzo sarà un capodanno con un occhio di riguardo alla sicurezza, niente botti e fuochi d'artificio in tutto il centro storico come previsto dall'ordinanza firmata dal sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. No, anche alle bombolette spray, a maggior ragione dopo i fatti di Ancona, in piazza Sant'Agostino che ospiterà la festa di Capodanno che si concluderà con l'esibizione alla consola di Pau de Negrita. Chiaramente le donne diciamo che sono quelle più o meno, quelle più soggette all'uso di questo spray peperoncino perché giustamente la sicurezza è una cosa che si vede però non si sente realmente e giustamente acquistando un prodotto, lo spray peperoncino, penso che cerchi di trovare quella sicurezza che non riesci a trovare. Sarà comunque una piazza blindata con due accessi con filtraggi, saranno messe transenne, uomini e un cordone di mezzi come previsto nei piani antiterrorismo.